È entrato nella filiale della via romana della Banca del Monte, travisato con una maschera di carnevale e una barba finta. E armato di pistola, si è fatto consegnare dagli impiegati il denaro contenuto nelle casse, circa 4.000 euro, ed è fuggito. Erano da poco passate le 11, quando il bandito solitario si è presentato alla cassa, pistola in pugno, intimando all'impiegata di svuotare i cassetti del denaro contante. Arraffate le banconote se ne è andato, probabilmente atteso all'esterno da un complice in auto. Subito è scattato l'allarme e sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri e una del radiomobile, ma del malvivente non c'era più traccia. Poco più di due mesi fa, alla medesima filiale, si è rappresentato un uomo con il volto coperto da un casco da motociclista. Questa volta però gli impiegati non aprirono le porte e l'uomo fuggì poco dopo.